dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra cinque segni neri dennison lo prese e lo gettò da parte ed entrambi si chinarono a vedere si guardarono l'un l'altro le fronti aggrottate dentro la cassetta c'erano delle cose simili a scatole la maggior parte lunghe quanto una mano forse qualcosa di più ma non più larghe e alte due o tre dita ognuna era coperta di tela correndo rude si sentì pieno di paura ancora dopo parecchi mesi mentre stava nascosto nei boschi ricordava con terrore la cassetta e talvolta quando faceva dei segni nel fango erano i cinque segni che aveva visto sulla carta ingiallita che ricopriva quelle cose là dentro libri